Il governo ha abbandonato l'Aquila, pensieri e parole di Stefano Albano, segretario comunale del PD e della deputata Demma Stefania Pezzopane. Il governo giallo-verde, hanno tuonato i due esponenti del partito, non è attento al territorio, bocciano emendamenti senza spiegare il perché e soprattutto non c'è ancora un sottosegretario alla ricostruzione, senza interlocutore noi non sappiamo con chi parlare. Albano ha ribadito che nonostante la presenza di Luigi Deramo non ci sia un'interlocuzione con il governo. La questione poi del bando periferie è gravissima, secondo i due. L'Aquila ha perso ben 18 milioni di euro, nonostante un buon progetto classificatosi al 27esimo posto. Tutto bloccato per una sentenza della Corte Costituzionale, ha sostenuto Albano, ma i primi 24 progetti erano stati già finanziati nel 2016. Il PD, in consiglio comunale a tal proposito, aveva presentato una mozione e anche il sindaco Biondi, poi addetto Albano, è stato costretto a fare dietro fronte. Il guaio, hanno spiegato i due, è che non essendoci stata la firma della convenzione con il ministero, semmai si faranno dei ricorsi, semmai Lanci lo farà, l'Aquila non potrà neanche partecipare. Durissima la pezzopane con il governo, emendamenti bocciati, ma non solo del PD, anche del partito del sindaco Biondi. Per ora hanno messo solo la firma sui no, ribadisce. La restituzione delle tasse è un'altra questione, un altro esempio. La proroga non basta e Salvini, ha detto l'esponente Dem, con l'Europa va allo scontro, non fa confronto. Situazione difficile anche per quanto riguarda i lavoratori del terremoto del centro Italia. Anche qui, il 31 dicembre, andranno a casa. Le soluzioni si trovano prima e non dopo. La grave sensazione è che l'Aquila si è abbandonata, che Roma e il governo giallo-verde non abbiano la considerazione adeguata, che ci sia un'interruzione di percorso. In questi anni, chiunque ha governato ha comunque mantenuto un profilo alto sulle vicende aquilane. Ormai, da quando questo governo si è insediato, noi ad ogni proposta otteniamo soltanto dei no. E quello che è paradossale è che anche quando queste proposte le fa il partito del sindaco dell'Aquila, Fratelli d'Italia, ottiene ugualmente lo stesso no da un partito, la Lega, che è all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi no alle proroghe, no al fondo di solidarietà per i comuni, no alla compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e no a tutti gli emendamenti che sono stati presentati per l'Aquila e per il cratere. Noi continueremo ovviamente a batterci nella legge di bilancio per ottenere quello che sempre abbiamo ottenuto, quindi prevalentemente sono proroghe, però la constatazione è questa. Non abbiamo ancora un sottosegretario di riferimento, è la prima volta che accade. Abbiamo sempre avuto un referente politico ed è necessario ancora un referente politico. e perché le situazioni che abbiamo in sospeso sono ancora molto. Quindi il PD farà la sua parte in una battaglia per la ricostruzione sempre molto forte e molto netta.